Sono Ali Afshar dell'Associazione Laureati Ireniani. Siamo qui in Parlamento Europeo per portare la voce di un popolo sofferente che purtroppo da quando questo regime disumano è salito sul potere abbiamo 120.000 martiri. Siamo qui in tutta parte del mondo dove si può portare la voce di questo popolo sofferente.